Il nuovo ciclo si intitola Storia in costruzione, nuovi orizzonti della storia contemporanea. Il nostro obiettivo con questi incontri è quello di discutere nuove prospettive della storia di ricerca, appunto, della storia contemporanea, anche in filoni più classici, come ad esempio oggi riguardo alla storia della chiesa. Vi ricordo i prossimi appuntamenti che saranno il primo di storia ambientale il 28 di ottobre e poi la storia della comunicazione politica il 5 di novembre, saranno pubblicizzati sul nostro sito. Sono molto contenta di riaprire il ciclo autunnale con il professor Viganò, perché questo incontro era previsto per marzo, ma ovviamente era stato cancellato per ovvi motivi. E quindi adesso abbiamo deciso di riproporlo in una versione virtuale. Come dicevo, con questo ciclo vogliamo andare ad indagare o discutere di nuove prospettive di ricerca. In questo caso la prospettiva di ricerca innovativa sarebbe quella della storia dei media all'interno della storia della chiesa contemporanea. Questo combina un po' anche la ricerca che stiamo facendo nell'Istituto sul tema della mediatizzazione dal 2017. Non mi dilungo su questo perché vorrei sentire quello che avrà da dirci il professor Viganò, che introduco brevemente vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Si è occupato di cinema e chiesa, sin dai suoi studi dottorali. È stato a lungo presidente della Fondazione del Lente dello Spettacolo della CEI e direttore della rivista Il Cinematografo. È stato prefetto della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede dal 2015 al 2018 e tra le sue pubblicazioni vorrei ricordare attraverso lo schermo Cinema e cultura cattolica in Italia, un'opera in tre volume di origine giorni nostri e soprattutto il Cinema dei Papi, che è il libro di cui parlerai in maniera più estesa oggi. Mi lascio subito la parola al professor Viganò e buon seminario a tutti. Grazie, grazie a professor Cao e a professoressa Tenaglia. Dunque, io cercherò intanto di motivare il mio intervento in questo vostro percorso di approfondimento che è appunto legato alla storia e allo studio della storia a partire dai processi di mediatizzazione o comunque a partire dall'interesse per i media. E devo dire che quello che io affronterò, che ha soprattutto come focus la politica culturale e cinematografica della Santa Sede, si colloca però in un ambito di studi che da molti anni già è attivato. Penso ad esempio come l'attenzione al rapporto tra la Santa Sede e le politiche cinematografiche fossero messe a frutto negli studi, confluiti poi nella grande storia del cinema italiano curata da Brunetta e in genere in tutti i filoni che si occupavano di storia del cinema. Quali erano gli elementi centrali che gli studiosi hanno affrontato almeno fino a 30 anni fa nella prospettiva del rapporto tra chiesa e cinema? Erano focalizzati su due momenti in particolare, anzitutto da metà degli anni 20 fino a tutti gli anni 30 e poi dal dopoguerra fino a quasi alla fine degli anni 60. Perché la polarizzazione degli storici del cinema era attorno a questi due poli? Perché nel primo polo temporale, quindi gli anni 20 e 30, si sviluppò quell'atteggiamento fortemente di controllo, di rigore che poi sfociò nelle severissime schede del Centro Cattolico Cinematografico che fu appunto istituito nel 1935, era coordinato dall'Alta Direzione dell'Azione Cattolica. Non c'era ancora la conferenza episcopale italiana, quindi la chiesa era un po' coordinata dall'Alto Commissariato dell'Azione Cattolica. Nel secondo polo temporale, invece il momento che va dal secondo dopoguerra fino a metà degli anni 60 invece è stato studiato dagli storici del cinema al di là di qualche caso specifico che poi magari di cui poi faremo cenno soprattutto perché è il momento in cui si sviluppa il grande circuito del sale cattoliche dipendenti dall'autorità ecclesiastica tutto questo attraverso appunto un riconoscimento di un ruolo non commerciale, più sociale delle sale del cinema parrocchiali che portò però a metà degli anni 60 in Italia ad avere il 50% degli schermi di proprietà ecclesiastica quindi si costruì un grande circuito che naturalmente non era un circuito di prima visione era un circuito di seconda, di terza visione ma rappresentava certamente anche in termini economici oltre che in termini di impatto sociale e culturale un fenomeno di particolare attenzione per gli studiosi e quindi questi furono i due momenti in questo secondo momento si sviluppò anche quello che fu poi la metodologia del Cineforum che ha visto nascere anche metodiche diverse quelle legate al centro studi cinematografiche C piuttosto che quello legato al metodo del San Fedele di Milano o ancora invece alle scuole più rigorose legate a padre Nazareno Taddei quindi diciamo non è una novità l'interesse dello studio rispetto alle politiche culturali chiamiamole così in maniera generale della Chiesa da parte degli studiosi di cinema poi si sono verificate anche alcune situazioni che hanno portato gli studi ad essere degli studi anche molto specifici, di microstorie penso ad esempio tutto il gruppo che ruotava e ruota attorno a quella che era l'alta scuola di specializzazione in comunicazione sociale dell'Università Cattolica di Milano lì per esempio penso a tanti studi che sono stati coordinati da Elena Mosconi Raffaele De Berti su proprio delle microstorie per esempio un concorso cinematografico cattolico nel 1910 nella Dioce di Milano piuttosto che alcune esperienze cineforiali oppure a un sacerdote di Como che era appunto un grande animatore di cinema quindi lì si è creato una sorta di gruppo di studiosi di giovani studiosi che poi negli anni sono cresciuti e sono diventati dei grandi riferimenti anche oggi in alcuni ambiti del rapporto tra lo studio del cinema e lo studio delle pratiche all'interno della Chiesa penso pure anche alla scuola di Bologna come di fatto si è occupata più che di cinema penso ad esempio al grande lavoro di Ruozzi sul concilio e sulla rappresentazione del concilio alla televisione oppure anche al gruppo attualmente che c'è in statale attorno a Subini ai prim che ha sviluppato quindi anche a tutti gli studi che si sono svolti sia sui documenti che anche sulle pratiche anche su alcuni elementi su cui è particolarmente attento Subini penso ad esempio alla censura, la pornografia eccetera penso anche agli studi tra la sociologia e la storia di Peppino Ortoleva sui cambiamenti soprattutto epocali di un'Italia cattolica che è rimasta cattolica geograficamente intesa per moltissimo tempo rispetto ai paesi d'Europa ma poi in brevissimo tempo ha allargato le maglie al punto tale da non riconoscersi più come un paese a caratura culturalmente determinata dal punto di vista cattolico quindi ci sono stati una serie di studi una serie di gruppi di lavoro di centri di ricerca che hanno posto attenzione a questo tema da lì appunto si è sviluppato ha trovato anche dei momenti più di sintesi appunto la professora Tenaglia ha ricordato questi tre volumi che ho curato con Ruggero Geni che è stato un momento un po' di raccolta come fosse un accol degli studiosi che circa 17 anni fa avevano affrontato tematiche tangenti al rapporto tra chiesa e cinema ed è stato un momento particolarmente interessante ma da lì poi sono partiti dei percorsi penso ad esempio attorno al ruolo che la Radio Vaticana ha avuto penso allo studio di Raffaella Perin oppure alla mediatizzazione dei pontefici qui la stessa professoressa Tenaglia ha fatto un ottimo saggio su Pio XII penso alla recezione del concilio da parte dei media molti studi hanno anche diciamo valicato l'ambito dei masmediologi e degli storici per entrare anche nell'ambito dei teologi questo mi pare sia un po' il contesto dentro cui si collocano i vari percorsi di studio tra la storia, la sociologia della cultura il cinema e la storia dei media certo all'interno della chiesa invece che cosa abbiamo avuto? abbiamo avuto più che altro un'attenzione sui documenti penso ad esempio a un'opera titanica che fece un gesuita Enrico Baragli un'opera nella quale ha raccolto tutti i documenti della chiesa sulla comunicazione quindi dai documenti sulle icone ai testi eccetera fino a giungere appunto negli anni 60 ai media di massa poi penso ad esempio a un capitolo particolarmente felice anche se molto complesso che fu quello legato agli studi di padre Nazareno Taddei che noi associamo alla vicenda della dolce vita ma appunto padre Nazareno Taddei era il momento gli anni 60 in cui lui aveva sviluppato i suoi primi manuali e d'altra parte non dimentichiamoci che all'inizio degli anni 60 avevamo lo sviluppo delle semiotiche strutturaliste quindi diciamo i suoi studi di lettura contornuale delle immagini che in qualche modo pur non essendo lui un semiologo entravano in osmosi con quelle che erano le acquisizioni scientifiche di quel momento sulle scienze del testo ha portato per esempio padre Nazareno Taddei a fare una riflessione sul film che era forse troppo avanti rispetto alla percezione possibile anche all'interno della chiesa tant'è che appunto a lui costò molto dovette lasciare il centro San Fedele e insomma le vicende che conosciamo attorno a questa vicenda e poi per quanto riguarda invece la chiesa italiana il momento forse più significativo perché veniva appunto nell'epoca del concilio furono la settimana sociale dei cattolici nel 62 che fu una settimana sociale dedicata esattamente ai mezzi di comunicazione di massa certo successivamente poi sono molti momenti di riflessione sui media, sui documenti ma diciamo è più prevedibile che oggi ci sia fatta questa premessa voglio cercare di per quello che riesco insomma di raccontarvi un po' come si è giunti alla Costituzione della Filmoteca Vaticana e come questa istituzione è l'erede di una lunga storia che è fatta a volte anche di conflitti all'interno della Santa Sede conflitti rispetto a posizioni molto differenti certamente però c'è una data da ricordare che appunto il febbraio del 1959 perché? Perché in quella data Giovanni XXIII, il suo secondo anno di pontificato firma un motu proprio quindi un documento che lo impegna personalmente dal titolo Bonis Pastoris in cui formalizza la nascita della Filmoteca Vaticana come vi dicevo Giovanni XXIII istituisce diciamo da forza istituzionale a quella realtà che ha avuto però una lunga gestazione nei rapporti tra cinema e media e che affonda le radici nel lontano 1948 quando presso la Santa Sede viene istituita una commissione che si chiama Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa quindi diciamo che la Filmoteca Vaticana non rappresenta una novità piuttosto per quello che io comprendo rappresenta un po' uno spartiacque tra due atteggiamenti diversi della Santa Sede nei confronti del cinema prima della Filmoteca abbiamo un atteggiamento che attraverso un po' tutto il pontificato di Pio XII e anche quello di Pio XI un atteggiamento che potremmo chiamare della doppia pedagogia cioè da un lato un grande incoraggiamento di azione nel mondo del cinema e dall'altra parte però anche un grande richiamo all'attenzione morale quindi diciamo tra incoraggiamento e ammonimento questo potrebbe essere il binomio che definisce la pedagogia la doppia pedagogia dell'epoca prima dell'istituzione formale della Filmoteca Vaticana successivamente certo siamo praticamente all'inizio degli anni 60 ci sarà il concilio ci sarà un ripensamento del rapporto Chiesa-Mondo e quindi anche la Filmoteca rappresenta in qualche modo simbolicamente la rivisitazione della Chiesa rispetto ai mezzi di comunicazione ma siccome Giovanni XXIII abbiamo detto raccogli un'eredità cerchiamo di capire da dove nasce questa eredità quali sono i passaggi strategici o comunque perlomeno centrali di questa lunga storia certamente un pontefice che dobbiamo richiamare è Pio XI Pio XI nel febbraio del 1992 appunto diventa Papa e pochi giorni dopo permette, autorizza la visione delle riprese della sua elezione quindi possiamo dire che con Pio XI si inaugura in qualche modo il documentario pontificio e quelle immagini che Pio XI autorizza a visionare in Vaticano della sua elezione troveranno poi spazio in un vero e proprio documentario dal titolo Nella Roma dei Papi che fu approntato dall'Istituto Cinematografico Educativo Morale San Marco quindi possiamo dire che con Pio XI e con questa autorizzazione a visionare le riprese della sua elezione abbiamo l'avvio di quella che come nel vostro istituto ben conoscete possiamo chiamare la mediatizzazione della figura del pontepice una mediatizzazione che Pio XI naturalmente cerca di governare d'altra parte non dimentichiamoci che siamo negli anni 20 e 30 il pontificato di Pio XI ed è il momento in cui c'è una grande crescita e una grande influenza soprattutto dell'industria cinematografica e quindi possiamo dire che Pio XI fu colui che impostò su basi rinnovate il rapporto tra Santa Sede e Ciro un rapporto che sarà poi sviluppato molto da Pio XII però ho detto che Pio XI inaugura su basi solide e nuove questo rapporto perché nuove? perché c'era stato un prodromo c'era stato un'origine del rapporto tra la Santa Sede e la Chiesa e questa origine noi la individuiamo nelle famose immagini di Leone XIII siamo nel 1998 sono immagini importanti di un operatore dell'America Mutescope and Bygraph Company e queste immagini molto spesso si dice sono dei fratelli Lumière no queste immagini appunto non sono dei fratelli Lumière ma poi noi sappiamo che col tempo la conservazione ha portato sì che a volte succedano anche delle diciamo delle incongruenze di paternità ma dagli ultimi studi e dal ritrovamento appunto nelle varie cineteche del mondo questo ci viene confermato e queste immagini che cosa rappresentano? rappresentano un pontefice anziano 88 anni e viene rappresentato nel luogo per lui familiare nei giardini vaticani e quindi diciamo c'è un momento iniziale in cui Leone XIII dopo quattro mesi decide di farsi riprendere perché per lui era molto incerta questa decisione era molto combattuto ma alla fine cede si fa riprendere e questo però segna anche dal punto di vista simbolico il rapporto tra chiesa e cinema tra chiesa e la settimana perché? perché non solo il pontefice si fa riprendere si fa immortalare in queste immagini nei giardini vaticani ma a un certo punto il papa benedice davanti all'operatore che cosa vuol dire? vuol dire che in qualche modo questa benedizione passa attraverso appunto la camera da presa passa allo spettatore idealmente quindi è come se nel rapporto tra cinema che vuol dire cinema industria cinema distribuzione cinema pratiche divisioni e fruizione e la chiesa si stabilisce un rapporto di benevolenza appunto di benedizione quello fu il primo momento e ci si rese subito conto della portata simbolica e di grande impatto che potesse avere questo breve filmato tant'è che per proteggere la sacralità del pontefice della sua figura del papa la distribuzione che di questo piccolo filmato venne fatto in America era una distribuzione sotto uno stretto controllo dell'autorità ecclesiastica quindi era molto importante garantire che la visione del pontefice del primo pontefice ripreso dal nuovo strumento che poteva registrare appunto il movimento fosse appunto rispettoso della sacralità del pontefice ecco perché non poteva essere proiettato in teatri profani e soprattutto il motivo per cui doveva essere preceduto da una sorta di introduzione da parte di qualche teologo o comunque qualche prelato o sacerdote quasi una sorta di avvio della metodologia del cineforum antelittera bene dentro questa questo quadro iniziale di benevolenza siamo chiamati a leggere le politiche del rapporto tra chiesa tra santa sede soprattutto e cinema e in particolare il rapporto tra cinema e santa sede con un focus attento alla mediatizzazione della figura del tapa e diciamo abbiamo parlato di come Piondicesimo permise la visione delle immagini della sua elezione di come tutto questo aveva un prodromo che è appunto Leone Tredicesimo e noi sappiamo che dopo Leone Tredicesimo Pio Decimo e Benedetto Quindicesimo non si interessarono particolarmente del cinema quindi la figura che raccolse questa iniziale benedizione da parte di Leone Tredicesimo è un suo appunto Pio Undicesimo Pio Undicesimo che si trova anche negli anni del fascismo e per cui in questo momento la santa sede cercò di affinare il tema del documentario grazie a un rapporto privilegiato con il Luce con l'Istituto Luce certo siamo in anni molto complessi molto difficili ma c'è anche il clima della conciliazione 1929 quindi in quegli anni dapprima c'è una spinta verso un processo di convergenza quindi un processo che permettesse realmente alla Chiesa di avvalersi dell'Istituto Luce come l'istituto attraverso il quale affinare la propria estetica pontificia chiamiamola così e avviare quel processo di mediatizzazione della figura del pontificio ma insieme però si colse subito anche il pericolo che era insito in questo processo di convergenza e il pericolo era appunto questo connubio troppo stretto con il fascismo e quindi era necessario trattare per individuare certamente i canoni di rappresentazione ma anche i processi di distribuzione che fossero in grado di reggere il confronto con i processi di distribuzione propagandistico del regime quindi poteva esserci una convergenza ma anche una strategia di non sudditanza e di non inglobamento in quella che era la propaganda di regime del fascismo e quindi c'era una forte attenzione all'estetica e anche alla pretesa di gestire degli spazi ora questo accordo sempre molto teso sempre degli equilibri molto precari trovò un momento interessante nell'accordo con la Santa Sede a proposito della conciliazione tra l'Italia e il Vaticano questo fu un momento molto importante certo un momento non non scevro da alcune possibili strumentalizzazioni in quel momento chi era segretario di Stato era Pacelli e Pacelli che diventerà poi il successore di Pio XI con il nome appunto di Pio XII ebbe tra le mani anche un dossier su una cineteca di proprietà della Santa Sede quindi diciamo questo legame con l'Istituto Luce permetteva anche un confronto su alcuni sviluppi possibili ma questo sviluppo che era appunto la proposta di una cineteca di proprietà della Santa Sede non andò poi di fatto in essere perché era un rapporto intanto molto complesso col fascismo e poi perché era un investimento elevato che la Santa Sede non poteva permettersi e quindi da quel momento iniziano non solo per questo motivo naturalmente a incrinarsi i rapporti anche con l'Istituto Luce non dimentichiamoci per esempio che a Milano c'era un'istituzione diocesana che si chiamava Cuce il consorzio educativo del cinema cattolico e nel 1933 fu diffidato perché questo termine Cuce era troppo assonante all'Istituto Luce tant'è che il Cuce divenne il consorzio cinematografico educativo CCE quindi perse appunto la U per evitare una confusione e quindi forse lo abbiamo perso almeno io non sento sì mi stavo domandando la stessa cosa sì confermo che non si sente più ok anche prima ha avuto un problema è attivato l'iPad quindi forse ora entra con un altro no sperando che se ne sia accorto più che altro forse professor Viganò forse se provi a mettergli il microfono in muto si accorge ok 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 Grazie. Vedete, sono i media vaticani. Va bene. Allora, dicevo appunto, le tensioni si presentano e in questo quadro dobbiamo inserire quello che avvenne il 12 febbraio del 31, cioè l'inaugurazione della Radio Vaticana. Perché? Perché certo non sarà un elemento di cui io mi occuperò, però questo aggiunge un tassello, non solo rispetto appunto al rapporto della Chiesa Cattolica, della Santa Sede con i media, in particolare con la radio, che avrà un grande ruolo durante tutto il fascismo, la Seconda Guerra Mondiale, eccetera, ma anche perché abbiamo una rappresentazione non più solo del pontefice in movimento, cioè non più una rappresentazione cinematografica del pontefice, ma in tutto il mondo giunge la voce del pontefice attraverso un film sonoro. Quindi siamo in un contesto in cui anche l'evoluzione dei media vanno a modificare la percezione anche del pontificato, della presenza del pontificato nel mondo. E arriviamo finalmente al successore di Pio XI a Pio XII e sono i momenti in cui negli anni 30 e 40 si affaccia l'idea di costituire un archivio cinematografico e una sala di proiezione, scusatemi, in Vaticano. Cioè in quel momento si sviluppa questa idea, prende corpo e questo dice anche la visione di Pio XII sui media. Non dimentichiamoci che Pio XII ha vissuto gran parte della sua esperienza in segreteria di Stato e quindi aveva ben chiara la forza che un'istituzione come il cinema aveva sulla propaganda e sulla costruzione di immaginari sociali e su atteggiamenti. Quindi Pio XII ebbe molta attenzione a quello che era il medium in quel momento diffuso che era appunto il cinema e quindi lui mette a frutto quelle conoscenze che ebbe anche girando il mondo rispetto ai media. E che cosa fa? Cerca di seguire personalmente tutti i passaggi cruciali della politica cinematografica della Santa Sede. E non dimentichiamoci per esempio quanto lui seguì la campagna moralizzatrice del cinema a Hollywood, che appunto giocò anche Pio XI con addirittura una lettera in civica, la vigilante cura nel 36 e poi anche le grandi relazioni che sviluppò quando era segretario di Stato con l'Organizzazione Cattolica Internazionale du Cinema, LOCIC, che oggi ha cambiato nome, ma appunto era una grande realtà che faceva riferimento a delle realtà sia produttive che distributive di cinema in tutto il mondo. Da Papa Pio XII si occupò molto di cinema, lo fece con dei discorsi, lo fece con delle encicliche, penso soprattutto a Sacra Virginitas del 54 e Miranda Prorsus del 1957, e Miranda Prorsus che già amplia l'attenzione oltre al cinema, e poi due grandi discorsi che si intitolano nel primo discorso sul film ideale e il secondo discorso sul film ideale del 55, che sono insieme una vera e grande trattazione sul cinema e sulle questioni della rappresentazione del male nel cinema, sul rapporto tra testo visivo e spettatore e così via. Dunque Pio XII segue e è molto attento a ciò che si svilupperà all'interno della Santa Sede per quanto riguarda le politiche cinematografiche. Che cosa abbiamo in quel momento? C'è il desiderio appunto di fare qualche cosa, di aprire una sorta di archivio cinematografico, di una sala di proiezione del cinema in Vaticano, ma naturalmente ci sono anche posizioni differenti. La prima posizione fa riferimento a Monsignore, che si chiama Monsignor Prosperini, il quale aveva una visione molto centrale di questo organismo. Cioè lui, vi cito proprio tra virgolette un appunto che ho trovato a ferma sua all'allora Montini, segretario di Stato, sostituto scusate in segretaria di Stato, in cui diceva Prosperini che questo organismo avrebbe dovuto essere, tra virgolette, organo supremo gerarchico nel campo cinematografico. Questo era il motivo per cui lui si chiede molto da fare per cercare uno spazio all'interno del Vaticano dove porre anche una sala di visione. Sull'altro versante, però, quindi sul versante molto differente rispetto a questa visione di Prosperini, ci stava il sostituto della segretaria di Stato, cioè Montini, e soprattutto un prelato americano, Monsignor O'Connor, che venne chiamato come presidente della Commissione Pontificia. Quindi, diciamo, si crearono queste tensioni, tensioni naturalmente che trovarono un esito nei confronti positivi rispetto alla prospettiva Montini e O'Connor, tant'è che nel 1950, non dimentichiamoci, che era il 48, l'anno in cui fu istituita la Pontificia Commissione per la Cinematografia Didattica e Religiosa, nel 1950, quindi solo due anni dopo, il presidente O'Connor esautora Prosperini, non condividendo visioni e metodi, e nello stesso momento Montini, come sostituto, informava che il Papa intendeva riformare l'organismo del 48, la Pontificia Commissione. Riformare voleva dire non solo aver dato un orientamento molto preciso, cioè non di organismo centrale e gerarchico, e quindi più di valorizzazione anche degli organismi internazionali, ma voleva dire soprattutto fare conti anche con persone nuove, perché i progetti hanno le gambe delle persone che le portano, e quindi furono chiamate due nuove figure. Una figura che troveremo anche molto all'interno del cinema, non solo della Santa Sede, ma del cinema in Italia, in particolare legato a quella che era l'ente dello spettacolo, che è appunto Don Albino Galletto, e l'altro è un monsignore polacco, Monsignor Descour, che fu di fatto il vero protagonista poi della realizzazione della Filmoteca Vaticana. Quindi inizia questo tipo di riforma e nel 1952 quella che era la Pontificia Commissione per il Cinema Educativo e Religioso diventa la Pontificia Commissione per la Cinematografia, ma solo due anni dopo, quindi nel 1954, ancora abbiamo un cambio di nome. E questo è molto interessante, perché? Perché si chiamerà Pontificia Commissione per il Cinema, la radio e la TV. Quindi possiamo dire che si inizia a intuire che il mondo, il panorama dei media con cui interagire o di cui interessarsi o per i quali avviare una politica da parte della Chiesa non è più il cinema, non è più la radio che in qualche modo dal 31 in poi aveva portato anche conoscenze e competenza, ma si avviava anche l'epoca della televisione che poi sappiamo ha avuto una parte fondamentale anche in quello che sarà successivamente il Concilio Vaticano II. Nel frattempo, tra il 51 e il 53, abbiamo una prima sorta di Cineteca Vaticana, un prodromo di Filmoteca Vaticana, in vicolo del Perugino. E diciamo, la ricerca che ho fatto, che poi appunto è confluita in questo libro Il Cinema dei Papi, è stata una ricerca sugli archivi, sui pezzi di carta, sugli appunti, e soprattutto ho potuto anche vedere un piccolo archivio della Gendarmeria Vaticana ed è molto interessante, vi leggo solamente alcune righe, un piccolo documento del primo luglio del 53 che ho trovato appunto in questo archivio della Gendarmeria Vaticana. Dice L'ingegner Camillo Rebecchini dell'Ufficio Tecnico della Città del Vaticano ha fatto noto che in via del Perugino è stato convenientemente allestito un locale che dovrà funzionare da cineteca. D'ordine superiore le chiavi di detto locale saranno date in consegna al comando della Gendarmeria il quale custodirà le pellicole che in esso verranno depositate. Un registro di carico e scarico dovrà essere tenuto perfettamente aggiornato dal comando predetto. Ora, perché vi cito questo piccolo brano? Perché è molto interessante trovare le bolle di carico e di scarico di questi film. Bolle che provenivano dall'appartamento si dice. E quando si legge in un appunto si dice proveniente dall'appartamento il riferimento è univoco. C'è dall'appartamento vuol dire dal Papa dall'appartamento papale e quindi erano presumibilmente delle bobine dei film a carattere religioso che venivano donate in occasione di qualche visita particolare al Pontefice e il Pontefice appunto le mandava perché fossero custodite in questa primitiva cineteca che poi diventerà appunto filmoteca. Ora questa nuova visione che appunto Montini o Connor ebbero sul cinema e sul senso di una pontificia commissione non più oramai per il cinema ma per il cinema e la radio e la televisione che cosa portava? Portava ad alcune novità cioè dal punto di vista istituzionale la competenza si allargava appunto come dicevo ai media e ai media di massa quindi questo era un primo dato importante il secondo dato è che si superava l'atteggiamento censorio moralistico e si valorizzavano i rapporti con gli organismi internazionali vi ho citato lo SIC l'organizzazione internazionale del cinema ma insieme anche a quel punto era nata l'unda cioè lo stesso organismo che si occupava però di televisione mentre sul piano politico pastorale questa concezione soprattutto questo legame così forte con gli organismi internazionali faceva di fatto superare una visione e una gestione esclusivamente curiale e italocentrica curiale perché perché il rapporto che aveva O'Connor con il mondo soprattutto americano del cinema e della televisione permetteva un rapporto informale diretto che bypassava tutti i passaggi formali interno della curia e italocentrico proprio perché la valorizzazione degli organismi internazionali poneva grande attenzione a quelle che erano le realtà dei media in quel momento oltre la piccola penisola italica finisce questo grande pontificato di Giovanni scusate di Pio XII un pontificato che appunto lui nel quale lui pose grande attenzione al cinema e arriviamo al suo successore Giovanni XXIII e Giovanni XXIII appunto fu quello che nel 59 diede a questa pontificia commissione carattere permanente cioè divenne appunto un un ufficio un ufficio della sede apostolica aggregato alla segreteria di Stato quindi quella che poteva essere una commissione la cui vita era appunto diciamo legata probabilmente a un momento un interesse ecco che viene istituzionalizzata e diventa appunto un ufficio aggregato alla segreteria di Stato Giovanni XXIII viene eletto Papa che era patriarca di Venezia quindi come patriarca di Venezia aveva frequentato il Lido in occasione del festival internazionale del cinema ma lui anche a Parigi amava ogni tanto vedere alcuni film insieme a qualche sacerdote a qualche in qualche congregazione religiosa film religiosi film educativi film geografici era stato in qualche set anche ad esempio a vedere Monsieur Vincent e quindi conosceva un po' quel mondo si intratteneva aveva avuto rapporti e naturalmente quando diventa Papa colui che era di tradizione il patriarca che celebrava la messa per gli artisti e la messa per il mondo del cinema Venezia si apriva anche un grande interesse a volte si apriva una linea di credito che non corrispondeva però la realtà quindi c'erano delle aspettative talmente grandi da parte del mondo del cinema che a volte costruivano delle narrazioni che appunto erano più frutto di desideri che non di realtà perché vi dico questo? Perché per esempio c'è un caso molto interessante che fa riferimento al film Les Amants di Louis Mal nel 58 presentato appunto a Venezia e nel tour di promozione di questo film l'anno successivo cioè nel 59 sia in Brasile che in Argentina lo stesso Louis Mal ebbe a dire che il Papa non trovò disdicevole questo film e anzi ne permise la proiezione a Venezia naturalmente tutto questo faceva parte di una narrazione prodomo sua nel senso che è naturale che il Patriarca di Venezia pur andando a celebrare la Messa per gli artisti e per il mondo della Cina non può determinare il cartellone del Festival di Venezia e così come era vero che la Diocesi di Venezia il Patriarcato aveva fatto un comunicato perché in quell'anno nel 58 la Messa di Venezia aveva presentato una serie di film molto discutibili dal punto di vista morale ma naturalmente le aspettative che il mondo del cinema aveva nei confronti di un pontefice che veniva appunto da Venezia e che in qualche modo rappresentava anche dal punto di vista dell'immagine una rottura col suo predecessore una figura molto ieratica sacrale e invece Giovanni XXIII un uomo semplice un uomo appunto che tutti hanno percepito immediatamente come assai prossimo fraterno portava a queste narrazioni che appunto erano narrazioni che non corrispondevano in realtà a questo fatto del film Les Zaman fece sì che dovette intervenire il nunzo ci furono tutta una serie di rimproveri di diciamo interventi anche ufficiali per chiedere di precisare questa vicenda ma questo per dire appunto come a volte se si decontestualizza un intervento come appunto era decontestualizzata della messa della messa del Papa Buono di Giovanni XXIII a Venezia rispetto al fatto che lui fosse oramai diventato pontefice si danno avvio a una serie di letture che non corrispondono a realtà comunque sia al di là di questo fatto Giovanni XXIII non solo rende istituzionale stabile questo ufficio all'interno è aggregato alla segretaria di Stato ma istituisce appunto la la Filmoteca Vaticana naturalmente l'istituzione della Filmoteca Vaticana a che cosa corrisponde corrisponde a quella desiderio di aggiornamento eh di Giovanni XXIII nel rapporto Chiesa-Mondo appunto dicevamo che la Filmoteca rappresenta uno spartiacque tra quella che poteva essere definita la doppia pedagogia eh prima di essa quindi incoraggiamento e ammonimento insieme a quella che è un rinnovato rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo un mondo così fortemente determinato dai media e quindi eh in questo contesto appunto eh nasce la Filmoteca nel 59 in un contesto in cui probabilmente eh Giovanni XXIII già aveva in mente eh il concilio non dimentichiamoci che lui eh Papa eletto in qualche modo di passaggio solo dopo tre mesi quindi a meno di cento giorni della sua elezione eh indice non solo il Sinodo di Roma non solo il rifacimento del Coggio di Diritto Canonico ma anche eh il concilio Vaticano II quindi non eh la continuazione del Vaticano primo che era stato interrotto ma il Vaticano II e lo fa ponendo una 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 scelta molto forte cioè non affidando più la preparazione alla quella che era il il santo uffizio oggi la dottrina della fede ma eh alla segreteria di Stato e questo perché? Perché alla segreteria di Stato arrivano le relazioni delle visita dell'Imina cioè le riflessioni sullo stato di salute della Chiesa delle vocazioni del rapporto con altre religioni del dell'inculturazione con le culture e quindi eh alla segreteria di Stato arrivava e arrivano le relazioni della vita concreta delle comunità cristiane ed è probabilmente proprio per questo che il concilio sarà un concilio diciamo pastorale meno attento eh alle questioni dottrinali che già c'erano eh quindi alcune vengono nuovamente eh affermate mh definite ma l'interesse di Giovanni XXIII era appunto quello di dire oggi come la Chiesa può vivere la sua esperienza di segno profetico del Regno nel mondo che è un mondo molto diverso da quello che c'era nel Vaticano primo che c'era nel durante il concilio di Trento quindi da questo punto di vista eh la Filmoteca Vaticana l'istituzione della Filmoteca Vaticana si colloca appunto come eh un grande segno di rinnovamento qual è l'esito? L'esito è quello che eh questo è un mio giudizio cioè che così come la Santa Sede eh ha investito molto in risorse umane in risorse economiche grazie a Dio per esempio per un grande archivio apostolico Vaticano per cui noi oggi eh e tutti voi penso che vi occupate di storia eh possiamo attingere eh ai documenti ben conservati ben custoditi ben organizzati molto spesso di digitalizzati quindi accanto all'archivio apostolico Vaticano eh c'è la biblioteca apostolica Vaticana che è un grande eh una grandissima risorsa per i studi così ecco il terzo pilastro avrebbe dovuto essere la Filmoteca Vaticana purtroppo la Filmoteca Vaticana non risponde eh a queste grandi sogni a queste grandi possibilità a queste grandi strategie perché perché purtroppo eh è rimasta una una raccolta sì di qualche migliaio di titoli eh ma poco più diciamo non si è rivelata l'altezza di quella che avrebbe potuto essere oggi eh la Filmoteca Vaticana come repertorio dello studio dell'audiovisivo e questo perché lo dico perché in fondo tra 50 anni gli storici faranno gli studi eh non più sulle bolle pontifice non più sulle pergamene che pure continuano ad essere dovranno essere custodite mantenute ma molto spesso sui documenti audiovisivi eh noi ricordiamo e con questo voglio anche chiudere questa lezione che così qualcuno di voi si sarà addormentato anche ma insomma può risvegliarsi al suono delle campane di mezzogiorno eh eh proviamo a pensare cosa è stata la ripresa e la regia della grande preghiera di Papa Francesco il 27 marzo eh in occasione della pandemia dove lì per esempio io questo lo posso condividere magari lo posso mandare alla professoressa Tenaglia ho fatto un'analisi dove lì anche la scelta per esempio di regia eh dell'utilizzo ehm eh cromatico determina eh una percezione di quel momento eh molto importante no? Di grande tensione tra il bene e il male di grande lotta tra il bene e il male in un pianto dell'umanità che è quel pianto che la telecamera ad esempio non ha asciugato sulle ottiche per cui lo spettatore in qualche modo assume su di sé eh quel quelle gocce d'acqua che diventano lacrime lacrime quasi di un nuovo percorso battesimale ecco credo che per esempio tra 30 anni 40 anni studiare approfonditamente quel testo audiovisivo sarebbe certamente un grande momento eh di storia importante credo che la filmoteca purtroppo eh al di là delle buone intenzioni iniziali non ha avuto questo esito speriamo che in questa riforma complessiva della Curia o l'archivio segreto la biblioteca apostolica si faccia carico appunto di adunare tutti quei segmenti oltre alla filmoteca vaticana tutti gli archivi per esempio del centro televisivo vaticano e altro che possano confluire in un grande archivio audiovisivo digitale per non disperdere il grande patrimonio eh della storia della chiesa che sarà affidato ai futuri studiosi di storia grazie e ho finito grazie a tutti